Oroscopo del giorno. Giovedì, 19 ottobre 2023. Ariete. Amore. Non sarà una giornata del mese molto favorevole per voi, in quanto Venere non sarà in buona posizione. Dovrete fare un po' di attenzione nei rapporti personali, e anche nelle nuove conoscenze. Lavoro. Occhi aperti anche sul posto di lavoro. Lavoro. Stelle poco favorevoli per voi potrebbero portare alcuni intoppi. Toro. Amore. Venere sarà in splendida posizione durante questo giovedì del mese. In amore le cose andranno decisamente bene, e potrete contare sui vostri rapporti stabili, o di nuova conoscenza se siete single. Lavoro. Attenzione al lavoro, ma soprattutto all'opposizione di Marte, che continuerà a portarvi situazioni. GEMELLI. Amore. Con il vostro partner avrete una giornata piuttosto complicata. Potreste discutere e litigare, ma le tensioni oggi ci saranno pure per chi non è impegnato sentimentalmente. Guardia alta a questo nervosismo. Lavoro. Potrete contare sulla posizione buona di Mercurio per il vostro giovedì lavorativo. Cancro. Amore. La posizione attiva di Venere renderà questo nuovo giorno del mese decisamente buono e piacevole. A voi non resterà altro che godervi le emozioni, e i rapporti d'amore o di nuova conoscenza. Lavoro. Ottime energie arriveranno dalle stelle. Sarà proprio un bel giovedì da poter sfruttare, per fare dei passi in più. LEONE. AMORE. Purtroppo non sarà una giornata troppo fortunata in ambito sentimentale. Sarà un giovedì in cui Venere non sarà dalla vostra parte, e per questo qualcosa potrebbe andare per il verso sbagliato in amore. LAVORO. I miglioramenti professionali stanno arrivando, stati iniziando ad assaporarli pian piano. VERCINE. AMORE. La congiunzione odierna del pianeta dell'amore potrebbe regalare delle sorprese emozionanti, soprattutto ai single. Per i cuori liberi sono previsti degli interessanti nuovi incontri. LAVORO. Sarà una giornata in cui potrebbero presentarsi delle interessanti buone nuove. Aspettatevi novità, ed opportunità. BILANCIA. AMORE. La posizione di Venere non sarà particolarmente favorevole. Sarà un giorno senza delle grandi sorprese in ambito sentimentale, sia per le coppie che per chi è single. LAVORO. Sarà un buon giovedì per il lavoro, in quanto la posizione di Mercurio sarà favorevole. Potrete sperare in buone nuove. SCORPIONE. AMORE. Con il pianeta dell'amore in posizione favorevole tutto andrà in modo sereno nel rapporto con il vostro partner. Le emozioni oggi arriveranno pure per chi è single, e vorrebbe intraprendere delle conoscenze nuove. LAVORO. La posizione di Mercurio sarà in congiunzione per voi, dunque nessun problema, ma buone possibilità professionali. SAGITARIO. AMORE. Con Venere che vi volterà le spalle, è molto probabile che per questa giornata avrete dei problemi sentimentali, con il partner o una persona vicina, magari una nuova conoscenza se siete soli. LAVORO. La posizione attiva di Mercurio garantirà un ottimo giovedì sul posto di lavoro. Tutto filerà per il verso giusto. CAPRICORNO. AMORE. La posizione favorevole del pianeta dell'amore renderà la vostra giornata sentimentale tranquilla, ma anche armoniosa e ricca di piacevoli emozioni. Sarà un giovedì che potrebbe portare qualcosa in più pura e single. LAVORO. Occhio al lavoro, perché Mercurio non sarà dalla vostra parte. Potrebbero esserci scogli da dover superare. ACQUARIO. AMORE. Purtroppo avrete ancora Venere in opposizione. Aspettatevi problematiche con il vostro partner, con una persona vicina, oppure anche con una che state conoscendo nel caso in cui siate single. LAVORO. Bene per il lavoro, dove potrebbero giungere dei buoni risultati. PESCI. AMORE. Purtroppo avrete ancora Venere in opposizione. Aspettatevi problematiche con il vostro partner, con una persona vicina, oppure con una che state conoscendo, nel caso in cui siate single. LAVORO. Bene per il lavoro, dove potrebbero giungere dei risultati soddisfacenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie. 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 Grazie.